sempre forse per la mia educazione solitaria almeno per quanto posso con la memoria regredire al tempo passato non ho stato morbosamente curioso del sesso non avevo che 16 anni quando incontrae una ragazza della mia età simona sulla spiaggia di x il caso volle che le nostre famiglie fossero legate da una sia pur lontana parentela che permise alla nostra conoscenza di trasformarsi rapidamente in qualcosa di più saldo non passarono tre giorni che facciamo in modo di rimanere soli nella sua villa simona si era messa addosso uno scemizie nero con il colletto bianco e rigido mi sembrava di intuire in lei la mia stessa angoscia come ispessita cresciuta in me dal pensiero fisso della sua nudità sotto l'allentato grembiule benché le sue calze nere salissero poco più su del ginocchio non ero ancora riuscito a saziarmi con la vista di tutto il resto fino al culo questo nome che usato da me per simona mi sembrava spogliato di ogni volgarità il più leggiadro degli appellativi erotici la mia immaginazione galoppava se solo era sfiorata dalla speranza di veder nudo il suo culetto nel sollevare il grembiule che portava nel corridoio c'era un piatto colmo di latte destinato al gatto i piatti sono fatti per sederci sopra disse simona scommetti che mi ci siedo sopra scommetto che non ci provi nemmeno risposi col fiato sospeso faceva caldo simona mise il piatto sopra uno scabello poi proprio davanti a me fissandomi gli occhi con insistenza si accoccolò immergendo il suo letto nel latte per un po restai immobile ma come tremante di un tremito soffocato dal sangue che violento mi affluiva alla testa mentre simona guardava il mio sesso inturgidirsi e tendersi sotto i calzoni poi mi coricai ai piedi di simona immobile sul piatto e per la prima volta vide la sua carne rosa e nera bagnata e candida di latte a lungo restammo come paralizzati in eccitata tensione e quando si sollevò il latte colando sulle sue cosce arrivò fino alle calze nere simona si giugò con il fazzoletto i piedi sopra la mia testa con un piede sopra lo sgabello mentre io mi masturbavo in un delirio frenetico e liberatorio per terra e senza toccarci mai arrivammo al piacere nello stesso momento solamente più tardi al rientro della madre si mise a sedere su una poltroncina piuttosto bassa e approfittando di un attimo in cui la ragazza si rannicchio fra le protettive braccia materne le sollevai senza essere visto la gonna infilando la mia mano rapinosa tra le sue cosce calde di corsa a notte rientrai a casa avido di rinnovate masturbazioni ma il giorno dopo avevo negli occhi pesti e cerchiati i segni del mio sregolamento tanto che simona scrutandomi con attenzione il volto mi disse mentre nascondeva il viso sul mio petto non voglio che tu ti masturbi senza di me da allora la rapina dei sensi ci trascinò ad una relazione così stretta e così necessaria che raramente restammo più di una settimana senza vederci per un'intesa quasi totale non avevamo bisogno di parlare io scoprivo giorno per giorno che la mia presenza le procurava le stesse formidabili emozioni che a me procurava la sua una volta mi ricordo infilati dentro un'automobile che guidavo a grande velocità prendemmo in pieno una giovane ciclista assai bella che finendo sotto le ruote fu atrocemente amputata del collo come imbambolati la guardammo nella sua morte a lungo l'orrore e la disperazione che esalavano da quelle carni sconvolgenti e delicate nello stesso tempo mi ricordano ancora misteriosamente la sensazione provata al nostro primo incontro simona era senza vezzi particolari estremamente semplice alta e bella apparentemente sembrava senza ombre nello sguardo e nella voce ma era invasa da tutto ciò che mortificando i sensi li esalta allora anche il più insignificante richiamo del sesso dipingeva sul suo viso la smorfia irreparabile del sangue del subito terrore del crimine da tutto ciò che stermina senza fine possibile la beatitudine e la integrità della coscienza scoprì in lei per la prima volta questa muta contrazione derilita e assoluta che io condividevo il giorno che mise il suo sedere nel piatto solo in questi momenti ci guardavamo con attenzione e solo dopo l'orgasmo assaporavamo brevi momenti di esile rasserenamento restavamo lontani dall'amore fisico per lunghi periodi di tempo ma sfruttavamo ogni occasione favorevole per abbandonarci ai nostri giochi preferiti non è che fossimo senza pudore al contrario ma il tormento dell'inquietudine ci costringeva ad ogni parrossistica infrazione così se in quel momento mi aveva come pregato di non masturbarmi da solo eravamo sulla punta a guzza di una scogliera subito dopo mi ritrovai sdraiato per terra con i pantaloni affidamente tirati giù da lei che sollevatasi la gonna si sedette sul mio ventre in un abbandono carico di promesse da prima le infilai nel culo un dito già bagnato dalla mia fretta di godere poi cambiando posizione arrivò con il viso sotto il mio sesso e appoggiando le ginocchia sulle mie spalle sollevò il culo in aria portandolo in alto sul mio viso sei capace di fare pipì in aria fino al mio culo mi chiese sì risposi ma l'olina ti ricadrà tutta addosso inzuppandoti tutta non fa niente dai tentato la tentazione mi costrinse alla sua pretesa ma appena svuotata la vescica subito prepotentemente sentì il mio seme scivolare sul suo corpo inondandola il forte odore della biancheria inzuppata della nostra pelle nuda e del seme si mescolava quello del mare dove la notte ormai calava le sue ombre che ci trovavano sempre nella stessa posizione immoti finché un rumore di passi ci scosse resta fermo mi supplicò simona di passi non ne sentimmo più ma trattenevamo ugualmente respiro nell'impossibilità di vedere se qualcuno si avvicinava non era che una supplica potente inerme il culo di simona che si offriva a tutti i possibili sguardi eretto in aria era perfetto con le sue natiche strette e delicate incise profondamente non dubitavo che quello sconosciuto di un certo sesso maschile o femminile che forse spiava non avrebbe resistito a quel richiamo velocemente si sarebbe denudato infatti riprese a camminare quasi a correre e improvvisamente ci davanti una ragazza marcella e fra le nostre amiche passava per la più commovente nella sua purezza se ne stavamo così contratti nella nostra posizione da non poter muovere neppure un dito verso di lei che all'improvviso si buttò nella sua tetra infelicità nell'erba morbida scoppiando in singhiozzi allora soltanto ci separammo dall'amplesso per gettarci su quel corpo abbandonato simona le sollevò la gonna strappò dilirando le mutandine e come ubriaca mi mostrò trionfante il nuovo culo da leccare che certo non sfigurava con il suo lo baciai con rabbia mentre tormentavo con le mani quello di simona e cui gambe si erano chiuse come una morsa sulle reni di marcella che ormai non aveva più nulla da nascondere oltre ai suoi singhiozzi marcella gridai ti supplico non piangere voglio che tu mi baci la bocca simona a sua volta che rezzava i suoi lisci capelli mentre su tutto il corpo la ricopriva di baci il cielo intanto minacciava burrasca e nella notte nera grosse gocce di pioggia cominciarono a cadere ormai rinfrescava un senso di sollievo ci pervase dopo lo sfinimento della giornata torrida e senza vento ci arrivava il rumore enorme del mare sgominato talvolta dal rombo lungo dei tuoni assordanti i lampi intermittenti svelavano come in pieno giorno i culi martoriati delle due ragazze silenziose eravamo posseduti da una brutale frenesia le bocche delle due ragazze si disputavano il mio culo i miei testicoli il mio glande mentre io ero instancabile nell'allargare gambe umide di saliva e di liquido seminale quasi nell'ossessa speranza di sfuggire all'abbraccio di un mostro che poi era la violenza dei miei movimenti calda la pioggia lavava nella sua torrenziale abbondanza ai nostri corpi il gran tuonare del cielo ci scuoteva aumentando la nostra furia che ci costringeva a urlare gli urli più eccessivi ad ogni lampo che ci mostrava le nostre parti sessuali simone aveva trovato una pozzanghera e col fango si masturbava godeva fusticata dalla pioggia violenta con la mia testa stretta fra le sue gambe sporche di terra e il viso mezzo sommerso nella pozzanghera dove martoriava il culo di marcella stringendola a sé con un abbraccio che le attanagliava le reni e tirandole la coscia e aprendola con forza con l'altra mano 2 l'armadio normanno fu in quel periodo che simona cominciò a rompere le uova con il culo si metteva la testa in giù sul cuscino di una poltrona con la schiena appoggiata allo schienale e le gambe ripiegate verso di me che mi masturbavo per non darle il viso istemavo l'uovo al di sopra del suo ano e simona godeva smoderatamente nell'agitarselo nella profonda fessura nel momento in cui il mio seme sgorgava violento le sue tenere chiappe contraendosi rompevano l'uovo lai godeva e io immergendomi col viso nel suo culo inondavo di quel liquido sieroso sua madre un giorno sorprese le nostre manovre erotiche ma da donna estremamente dolce qual era anche la sua vita nella sua normalità potesse definirsi esemplare la prima volta che ci sorprese si accontentò di assistere al gioco senza fiatare al punto che nessuna dei due si accorse della sua presenza suppongo che per il terrore non sia riuscita a spiccar parola terminate le nostre stranezze mentre cercavamo di mettere in gran fretta un po d'ordine la scorgemmo in piedi sul vano della porta fai finta di niente mi disse simona continuando imperterrita ad asciugarsi il culo uscimmo senza fretta qualche giorno dopo nel garage dove andavamo a fare ginnastica simona pisciò addosso a sua madre che si era fermata sotto di noi senza vederci anziana signora si tirò da parte con lo sguardo di una tristezza talmente sconcertata che scatenò in noi la voglia dei nostri giochi ginocchioni ridendo irrefrenabile col culo sul mio viso simona si fece spogliare mentre io mi masturbavo in un delirio mai provato per il fatto di vederla nuda davanti alla madre dopo una settimana rincontrammo marcella per la strada era così timida ingenuamente devota che appena ci vide arrossi con violenza con una violenza tale che spinse simona ad abbracciarla con una tenerezza sconosciuta sono mortificata le disse a bassa voce quello che è accaduto l'altra sera è grave è male ma non può assolutamente proibire la nascita della nostra amicizia te lo prometto non proveremo mai più neppure a sfiorarti certo non è che marcella avesse una qualsiasi capacità di difesa era quasi senza volontà accettò di seguirci e di venire a merenda da simona in compagnia di qualche amico al posto del tè avremmo bevuto abbondante champagne sconvolti dal vedere marcella arrossire ormai avevamo capito io e simona e senza indugiarsi in chiacchiere avremmo puntato al sodo con noi c'erano tre ragazzette e due ragazzi il più grande non aveva ancora 17 anni ma non si può dire che si fossero eccitati riscaldati molto come era nelle nostre speranze benché la bevuta di champagne avesse leggermente resi brilli ma un giro a dischi facilitò la faccenda simona danzando un indiavolato ragtime da sola fece vedere le gambe fino al culo le altre ragazze invitate a seguirla erano partite abbastanza per avere una qualsiasi capacità di difesa e certo avevano indosso dei pantaloncini che non nascondevano granché solo marcella ubriaca e ombrosa rifiutò testarda di ballare simona che fingeva di essere completamente sbronza afferrò una tovaglia e l'alzò proponendo una scommessa scommettiamo che riesco a far pipì sulla tovaglia davanti a tutti all'inizio almeno era una delle solite riunioni fra adolescenti chiacchieroni e un po' ridicoli ma uno dei ragazzi accettò la posta fu fissata a discrezione dei due che scommettevano simona nella sua sfrontatezza consumata non esitò a inzuppare talmente la tovaglia che si lascerò fino all'orlo allora i ragazzi persero completamente la testa poiché era una scommessa a discrezione disse simona al perdente con la sua voce roca ti toglierò le mutande davanti a tutti e così fece senza difficoltà dopo aver sfilato i pantaloni per evitare la ridicolaggine e goffaggine di quello stato gli tolse anche la camicia tuttavia non è che accadde granché simona accarezzò appena appena il sesso del suo compagno ma tutto era fatto in funzione di marcella che ora mi supplicava di lasciarla andare via ma se abbiamo promesso di non toccarti perché vorresti andare via perché sì rispose come una bambina capricciosa una collera intollerabile doveva essersi impadronita di lei a un tratto simona piombò a terra fra il terrore e lo sgomento degli altri sconvolta da una confusione prossima al delirio alla follia con i vestiti in disordine il culo in aria simile in questo a chi è vittima di un attacco epilettico si rotolava ai piedi del ragazzo che aveva spogliato malbettando parole quasi incomprensibili pisciamoci addosso pisciami addosso pisciami addosso pisciami nel culo ripeteva come distrutta dalla sete marcella stupefatta guardava le gote in fiamme senza fissarmi mi disse che avrebbe voluto spogliarsi l'aiutai si fece togliere tutto tranne le calze e la cintura che volle tenere vi lasciò appena accarezzare tra le cosce nonché baciare sulla bocca quindi attraversò la camera come una sonnambula fino ad un armadio normanno dove si rinchiuse dopo aver mormorato qualche parola all'orecchio di simona volendo masturbarsi nell'armadio supplicò che la lasciassimo in pace sola eravamo mezzo ubriachi come sconturbati dall'audacia che vicendevolmente ci aveva intrigati dal ragazzo nudo che era succhiato da una ragazza a simona in piedi e scosciata le gonne in testa e strofinava le sue chiappe contro l'armadio dove la masturbazione di marcella prendeva le dimensioni di una furia violenta e piena di esasperazione improvvisamente ecco una cosa folle un rumore d'acqua seguito dall'apparire prima di un filo che ingrossando diveniva una specie di rigagnolo in movimento al fondo dell'armadio era il piscio intrattenibile di marcella che al colmo dell'orgasmo si era pisciata addosso allora in una risata ubriaca e perduta ci buttammo in un'orgia calda di corpi avvitichiati di gambe e culinaria di vestiti inzuppati di piscio e di seme come si inghiozzi a tutta bocca ma involontari le risate ritardavano appena la delirante corsa ai culi e ai sessi intorgiditi marcella dentro quel pisciatoio di fortuna trasformatosi per lei almeno in apparenza in una prigione senza speranza piangeva irrefrenabile dopo una mezz'ora un po meno ubriaco pensai di aiutare marcella ad uscire dall'armadio tremava già in preda alla febbre in una disperazione accorante scorgendomi manifestò un orrore livido di follia ero pallido sporco di sangue mezzo spogliato per terra dietro di me giacevano scompostamente corpi nudi e insozzati in un disordine selvaggio due ragazze si erano feriti a sangue con scheggia di vetro una ragazza vomitava il ridere più sfrenato che ci aveva carpito senza misericordia si risolveva in violente pisciate che avevano bagnato i vestiti le poltrone e il pavimento ne risultava un odore di sangue di sperma di orina e di vomito che stomacava e non ridiva insieme ma l'urlo che marcella tirò fuori dalla sua gola fu la cosa che mi sconvolse più di tutto simona intanto dormiva la pancia all'aria la mano sul sesso il viso disteso marcella si precipitò fuori dall'armadio vacillando con una specie di informe grugnito mi guardò fisso indietreggiando come davanti alla morte finché rotolandosi per terra non cominciò un concerto assordante di grida rauca e disumane questo suo strepitare stranamente mi eccitò di nuovo spasmodicamente era inevitabile che quelle grida avrebbero avuto un seguito che qualcuno sarebbe accorso ma non cercai né di fuggire né di diminuire lo scandalo anzi al contrario andai ad aprire la porta visione e gaudio immenso lascio immaginare le urla le minacce assurde sproporzionate le esclamazioni di stupore e di rabbia la corte d'assise il bagno penare il patibolo erano invocati per noi in un furore incendiario e spasmodico alcuni nostri compagni si erano messi a gridare fino a produrre uno strepito delirante di grida e di lacrime qualcuno avrebbe potuto dire che lì stava bruciando qualche essere umano come una torcia quale atrocità in ogni caso mi sembrò che niente potesse far finire il delirio tragicomico di quegli scervellati marcella nuda ancora nel suo gesticolare urlare senza smettere mai testimoniava la sofferenza morale e il terrore ragionevole che la possedeva fino a mortere il viso della madre in mezzo a una quantità di braccia che tentavano in vano immobilizzarla questa irruzione dei genitori distrusse quel po di ragione che le restava arrivò la polizia infine e tutto il quartiere seppe lo scandalo senza precedenti 3 l'odore di marcella dei miei genitori nessuno si era fatto vivo ma pensai che era molto meglio non farmi più vedere conoscendo il carattere di mio padre livido di rabbia nella sua decrepitezza di generale rimbambito e cattolico così entrai in casa da una porta laterale per rubare una somma di denaro sufficiente alla mia sopravvivenza mi feci un bagno proprio dentro la camera di mio padre sicuro che nessuno avrebbe mai pensato che fossi andato a finire lì verso le 10 a sera mi inoltrai nella campagna lasciando sul tavolino materno un biglietto che diceva non mi mandar dietro la polizia ti prego ho un revolver il mio primo colpo sarà per qualche poliziotto il secondo per me non è che mi comportassi così per prendere un atteggiamento qualsiasi ma tentavo di bloccare nell'esitazione la mia famiglia irriducibile nemica dello scandalo scrissi certo queste parole con leggerezza quasi per gioco ridendo ma non mi sembrò uno sbaglio anzi intascare il revolver paterno passai tutta la notte camminando sulla spiaggia deserta e silenziosa rimasi però sempre nei paraggi di x la costa nella sua tortuosità non permetteva di fare molta strada volevo placare me stesso con questo lento camminare la mia immaginazione ricreava i fantasmi di simone e di marcella finché si insinuò in me l'idea di ammazzarmi correvo al rimano dimenticare il significato di parole come disperazione o speranza stremato sentivo prepotente dentro di me la necessità impellente di dare un qualche senso alla mia vita e ne avrebbe avuto almeno uno se fossi stato capace di riconoscere come desiderabili un certo numero di avvenimenti accettare l'ossessione dei nomi simona marcella senza poi riderci su se mi scombussolavo tutto per una specie di composizione delirio di fantasia dove i miei atti più eccentrici si confondevano senza fine ai loro rimasi in un bosco addormentato per tutto quel giorno da simona mi ci portarono le tenebre saltando il muro passai nel giardino la luce testimoniava che simona vegliava alcuni sassolini da me gettati avvertirono la mia amica che subito discese ci dirigemmo verso il mare quasi mai parlando in quella notte senza luna felici di stare di nuovo insieme ogni tanto le alzavo la gonna e le carezzavo il culo ma ero lontano dal provare nessuna delle precedenti emozioni finalmente si sedette mi accoccolai ai suoi piedi stupito a un di essere lì per piangere e infatti scoppiai in lacrime si inghiozzai a lungo sulla sabbia che ti succede mi chiese simona mi allungò una pedata ridendo ma il suo piede urtando la pistola nella mia tasca fece partire un colpo paurosa esplosione che ci fece urlare di spavento ma non ero ferito anzi mi ritrovai in piedi col sospetto di essere capitato in un altro mondo simona era tutta impallidita disfatta quel giorno non ci sfiorò affatto l'idea di masturbarci ma ci baciammo a lungo in bocca cosa che non avevamo mai fatto prima di allora per qualche giorno vivemmo insieme a notte rientrammo per dormire nella sua camera lì mi nascondeva ogni sguardo discreto mi portava da mangiare e la madre che era capace di farsi valere il giorno dello scandalo alle prime urla aveva subito lasciato la casa accettava la situazione per i domestici non c'era da preoccuparci il denaro tappava loro la bocca devota alle intenzioni della loro padrona qualcuno di loro ci informò sull'internamento di marcella il suo destino sembrava concluso dentro una casa di cura dove la poveretta era stata rinchiusa da allora il nostro unico progetto di vita riguardò la sorte di marcella la sua follia solitudine della sua carne la possibilità eventuale di raggiungerla di convincerla all'evasione un giorno provai ad entrare dentro simona per deflorarla sei matto urlò come fossi una madre di famiglia sul letto no caro così non mi interessa con marcella come sarebbe esclamai pieno di delusione ma in fondo d'accordo con lei mi venne vicino venne premurosa ed affettuosa con una voce sognante aggiunse quando ci vedrà fare l'amore farà pipì così sentì un liquido caldo colarmi sulle gambe appena ebbe finito le pisciai addosso a mia volta quindi mi alzai le montai sopra e la impiastrai tutta di seme così imbrattata invasa godeva inebriandosi del nostro odore hai l'odore di marcella disse col naso sotto il mio culo ancora bagnato spesso la dolorosa voglia di fare l'amore ci prendeva ma con noi legata ai nostri patimenti ai nostri desideri tormentosi c'era marcella le sue urla rauche non avevano cessato di infiltrarsi nelle nostre orecchie in quelle condizioni il nostro sognare ad occhi aperti non era che un lungo incubo senza speranza il sorriso di marcella la sua giovinezza i suoi singhiozzi la vergogna che la faceva arrossire violentemente e la costringeva nel suo rossolo senza rimedio a strapparsi isterica le vesti per poi abbandonare le sue dolcinatiche a bocche fameliche impure quel delirio che la costrinse a ficcarsi dentro l'armadio e lì a masturbarsi fino al punto di perdere ogni controllo e pisciarsi addosso tutto questo deformato dalla nostra fantasia dilaniava il nostro desiderio la nostra fame simona non poteva dimenticare che proprio quando era stata scoperta l'orgia al momento dello scandalo del furore dei parenti aveva raggiunto l'orgasmo più orgasmante più imprevisto del suo piacere immenso e sfibrante anzi aveva da tutti vista e tutti vedendo aperto ancora di più le cosce non aveva pensato minimamente a coprirsi e infernalmente aveva assaporato tutta la sua spudoratezza che le urla e la nudità di marcella aumentavano il suo culo non si apriva davanti a me senza che l'immagine cara ed eccitante di marcella con la bava alla bocca delirante o nel suo rossore di educanda non la possedesse intera e implacabile fino allo stremo delle forze come se il sacrilegio dovesse rendere tutto vergognoso e infame nell'infamia d'altronde le parti più vischiose del suo culo che somigliavano un po' ai giorni di piena e di tempesta o alle soffocanti emanazioni dei vulcani e che proprio come i vulcani e gli uragani entravano in attività solo in circostanze catastrofiche queste sue umide regioni desolate che simona in un abbandono che non prefigurava che violenze mi lasciava osservare come in trance non erano ormai per me che il richiamo sotterraneo di marcella torturata nella sua prigione e divenuta facile preda dei miei incubi senza riscatto ero incapace di capire o di pensare ad altro che a una cosa a quell'orgasmo devastatore che la costringeva nei suoi singhiozzi a urlare urlare simona invece guardava il mio sesso che lasciavo schizzare il suo liquido seme solo per poterselo immaginare in funzione nella bocca e nel culo di marcella il rumatico piosamente potresti sbattergli questo seme e fagglielo fumare in faccia mi disse mentre se lo strofinava lei stessa sul culo quattro una macchia assolare gli altri ormai maschi e femmine non ci interessavano più il nostro delirio sogno ad occhi aperti era marcella marcella della quale infantilmente immaginavamo la sua volontaria in piccagione la clandestina sepoltura il ritorno dall'oltretomba spettralmente una sera al corrente delle abitudini della casa di cura dove era l'inchiusa partimmo in bicicletta in meno di un'ora percorremmo i 20 chilometri che ci dividevano dal castello circondato da un parco e isolato su una scogliera che dominava il mare marcella occupava la camera numero 8 eravamo sicuri ma la difficoltà consisteva nel fatto che solo dall'interno potevamo raggiungerla a meno di non segare le sbarre della sua finestra ma ancora dubbiosi sul da farsi per riuscire a trovare questa stanza una strana apparizione si sconvolse improvvisamente avevamo saltato il muro di cinta e ci trovavamo dentro il parco dove il vento violento agitava gli alberi quando una finestra del primo piano si aprì e un'ombra attaccò saldamente un drappo ad una delle finestre il vento scuoteva il drappo ma la finestra si chiuse prima che uno di noi potesse riconoscere l'ombra è difficile immaginare il chiasso di quell'immenso candido lenzuolo agitato dal vento furioso sovrastava tutti gli altri possibili rumori del vento e del mare per la prima volta vi disse mona angosciata da altro che la sua oscenità mi abbracciò terrorizzata con lo sguardo fisso a quel fantasma furibondo nella notte scura come se la pazzia stessa avesse piantato il suo stendardo su quel lugubre castello restavamo immobili con simona nelle mie braccia il vento sembrò per un attimo squarciare le nubi la luna illuminò in una precisione rivelatrice un dettaglio straziante e strano talmente che simona singhiozzò dolorosamente il lenzuolo che il vento agitava e gonfiava con rumore assordante aveva al centro una larga macchia bagnata che la luce illuminandola rendeva trasparente qualche attimo e di nuovo le nuvole coprirono la luna l'ombra si impossessò della notte stavo in piedi col fiato sospeso con i miei lunghi capelli agitati dal vento di quella triste nottata piangevo la mia infelicità mentre simona nell'erba per la prima volta piangeva tutte le sue lacrime di bambina proprio la nostra amica sfortunata sì marcella senza dubbio aveva aperto quella finestra marcella certo aveva fissato alle sbarre della sua dura prigione quell'allucinante segnale della sua disperazione era masturbata dentro il letto tanto da farsela addosso la sua calda orina e noi subito dopo l'avevamo sorpresa mentre appendeva l'incriminato lenzuolo alla finestra perché si asciugasse in fretta non sapevo più che fare in quel parco davanti a quella falsa dimora di vacanza con le inferriate alle finestre mi allontanai lasciando simona distesa sull'erba volevo calmarmi riflettere ma ecco che scorsi una finestra al piano terra che faceva bella mostra di sé non chiusa socchiusa senza sbarre certificai la presenza del mio revolver nella tasca ed entrai mi trovai davanti un anonimo salone simile a tanti altri una lampadina tascabile mi permise di passare in un'anticamera e quindi mi trovai davanti una scala non distinguevo neanche né mi orizzontavo per di più le camere non erano numerate come preda di un malefizio incapace di riflettere mi trovai anzi mi scopersi osservai sbigottito a togliermi automaticamente i pantaloni e le mutande mentre continuavo in camicia la mia angosciante esplorazione poi mi sbarazzai di tutto e tutto misi in una sedia rimanendo solo con le scarpe con la lampadina in una mano e il revolver nell'altra procedevo in un'inerzia senza speranza a caso un rumore leggero mi fece spegnere la luce immobile ascoltavo il mio respiro irregolare lunghi minuti d'angoscia passarono senza alcun rumore allora riaccesi la lampadina un urletto proprio un piccolo urlo mi fece fuggire così velocemente che nello spavento dimenticai vestiti sulla sedia credevo di essere inseguito dove era la porta non la trovavo allora saltai dalla finestra e mi nascosi in un vialetto ma mi ero appena voltato che una donna nuda si sollevò dal vano di una finestra e saltò con me nel parco scomparendo di corsa nella direzione dei biancospini che cosa c'era di più strano in quei momenti d'angoscia della mia nudità al vento nel viale d'un giardino mai visto prima tutto veramente accadeva come se improvvisamente avessi abbandonato la terra tanto più che l'aria divenuta calma in un preannunzio di temporale invitava a certe suggestioni il revolver ora mi era quasi di impaccio ne avevo più tasche per ficcarcelo mentre mi mettevo alle piste di quella donna che avevo visto passare come se volessi falciarla calpestarla nel raggiungerla posseduto ormai da un'implacabile confusione mentale che tutto ciò che mi circondava aria terra natura il lenzuolo lontano svolazzante accrescevano non sapevo più qual era la mia meta dove tendeva il mio agire nulla mi era più comprensibile se mi fermai fu perché l'ombra era sparita dentro o dietro un cespuglio dove anch'io ero arrivato nell'esaltazione del momento col revolver in mano mi guardavo guardare intorno finché il mio corpo provò intera la sensazione della lacerazione una mano bagnata di saliva si era impadronita del mio membro il lascivendolo fino all'erezione mentre un caldo bacio sfiorava l'intimo del mio culo il petto nudo le nude gambe di una donna si avvinghiavano alle mie in una frenesia orgasmante non ebbi il tempo di girarmi per spargere il mio seme sul viso di simona la violenza o il suo preannunzio si era impadronita di me con il revolver in mano battevo i denti sbavavo dalle labbra le mani mezze irrigidite stringevano convulsamente quel revolver e senza che io lo volessi lasciò partire alla cieca tre colpi terrificanti che volarono in direzione del castello ormai svuotati disfatti simone dio fuggimmo lontani l'uno dall'altro in fuga attraverso il prato come cani il temporale era troppo forte perché le detonazioni potessero svegliare gli abitanti del castello ma guardando la finestra dove sbatteva il lenzuolo constatammo sbigottiti che una pallottola aveva infranto un vetro finché vedemmo quella finestra aprirsi e l'ombra apparire per la seconda volta restavamo dritti in piedi sotto quell'apparizione senza movimento nel terrore che marcella dovesse precipitare giù insanguinata e morente nel prato sotto i nostri occhi senza che ci si potesse sentire senza che ci potesse sentire se il vento infuriava ormai sempre più dove sono i tuoi vestiti chiesi a simona dopo un po la sua risposta mi aveva cercato e non più trovandomi aveva finito per andare come per lustrando l'interno di quel misterioso castello ma prima di scavalcare la finestra si era spogliata credendo di essere più a suo agio e naturalmente non aveva più ritrovato i suoi vestiti nella fretta di fuggire spaventata dal mio rumore tuttavia mentre parlava ossessa fissava marcella lontana appollaiata alla sua finestra non pensò a chiedermi perché anch'io fossi nudo la ragazza alla finestra scomparve passò un istante che sembrò nella sua brevità eterno ma ecco che la luce della stanza fu accesa e marcella ritornò a respirare l'aria della notte guardando verso il mare il vento agitava i suoi capelli chiari e lisci se quello che vedevamo era il suo volto la sua delicata fisionomia allora no non era cambiata tranne forse una inquietudine nuova selvaggia nello sguardo così in contrasto con la sua infantilità piena di semplicità non dimostrava che tredici anni anche se ne aveva sedici il suo corpo che una leggera camicia difendeva dagli sguardi impudichi era proporzionato nella sua minutezza sodo grazioso e leggero come il suo guardare senza tregua quando si accorse di noi la sorpresa sembrò renderle la vita sarto urlò ma a noi non arrivò niente del suo urlare e facemmo dei segni dovette arrossire simona ormai vicina alle lacrime mentre le accarezzavo meccanicamente sulla fronte le inviò dei baci ai quali marcella rispose senza sorridere simona allora si lasciò andare la sua mano aprì quasi scivolando sul ventre il pube marcella limitò e posando un piede sul davanzale della finestra scoprì una gamba coperta da una calza bianca fino alla peluria bionda del sesso lo strano di questo rito a distanza era che mentre marcella aveva la cintura e le calze bianche simona aveva la cintura e le calze nere col culo nella mia mano simona rispondeva alla masturbazione frenetica di marcella con la sua come cadenzata sincronizzata la notte buona consigliera accoglieva questa tesa immobilità delle due ragazze che consultavano come un oracolo solo il loro inguine già troppo consultato poi marcella come risucchiata da chissà quale invisibile mostro scomparve nella cavità della stanza davanti a noi non restò che una finestra vuota buco rettangolare che feriva la notte scura senza stelle e apriva davanti ai nostri occhi stanchi un giorno colorato dal fulmine e dall'aurora un legame esiste per me tra l'urina e il sal nitro tra il fulmine un vaso da notte antico di terracotta abbandonato in un piovoso giorno d'autunno sul tetto di zinco di una lavanderia provinciale dopo la prima notte passata a cercare marcella dentro la casa di cura queste desolate rappresentazioni se ne stanno insieme come sorelle illegittime della parte tenebrosa del mio inconscio con il sesso umido e il viso sconfitto di marcella in ogni caso questo paesaggio della mia immaginazione si non dava subito di un miscuglio di luce e di sangue forse perché marcella la mia marcella non poteva trovar piacere senza bagnarsi non di sangue ma di un getto di urina ai miei occhi si luminosa quel getto all'inizio violento improvviso come un singhiozzo poi dolcemente abbandonato coincideva con un trasporto di gioia disumana non c'è da meravigliarsi se gli aspetti più desolanti e più rivoltanti di un sogno non siano che una sollecitazione morbosa in questo senso e si equivalgono all'attesa ostinata di una luce analoga in questo alla visione del vano illuminato dalla vuota finestra nel momento in cui marcella caduta sul pavimento l'inondava dorina senza fine quel giorno nella tempesta senza pioggia attraverso l'oscurità ostile dovemmo fuggire dal castello nudi come animali simona ed io ossessionati dal pensiero dell'angoscia che senza dubbio avevamo procurato volontariamente a marcella l'infalice prigioniera era come l'incarnazione della tristezza che la collera dei corpi cercava in vano di annientare nello sgretolamento la pompa trovate per caso le nostre biciclette potemmo offrirci l'un l'altro lo spettacolo irritante in apparenza osceno di un corpo nudo calzato sulla macchina pedalando rapidamente senza ridere né parlare nell'isolamento comune dell'impudicizia della fatica e dell'assurdità eravamo stremati morti dalla stanchezza tanto che simona a metà di una salita si fermò presa dai brividi eravamo tutti sudati simona tremava battendo i denti le sfilai allora una calza per asciugarla aveva un odore caldo simile a quello di certi letti di malattia o di vizio si riprese al quanto a poco a poco mi baciò in segno di riconoscenza ero preda di una sorda inquietudine mancavano ancora dieci chilometri da x e per lo stato in cui eravamo era necessario arrivare lì prima dell'alba mi tenevo a malapena in piedi come disperando di veder la fine di questa corsa ininterrotta nell'impossibile il tempo in cui avevamo lasciato il mondo reale abitato da persone vestite era così lontano che sembrava fuori portata questa allucinazione personale si sviluppava con la stessa assenza di limiti dell'incubo globale della società umana con terra atmosfera e cielo la sella di cuoio aderiva al culo nudo di simona che fatalmente si masturbava muovendo le gambe la gomma posteriore spariva ai miei occhi nella fessura del di dietro nudo della ciclista il movimento di rapida rotazione della ruota era d'altronde assimilabile alla mia sete a quell'erezione che mi invitava nell'abisso di quel culo appiccicato al sellino il vento era un po calato il cielo si apriva e le stelle facevano capolino di nuovo mi venne in mente che la morte era l'unica via d'uscita alla mia erezione se fossimo stati uccisi io e simona all'universo della nostra visione personale si sarebbero sostituite pure stelle realizzanti a freddo ciò che immaginavo vivamente come il termine delle mie turpitudini un'incandescenza geometrica coincidenza tra l'altro della vita e della morte dell'essere e del nulla è perfettamente fulgoratrice queste analogie nonché quell'assurda dolorosa rigidità del sesso restavano legate alle contraddizioni di uno stato di sfinimento e invinimento prolungati ormai da troppo tempo questa prepotente rigidità simona non poteva vederla soprattutto per l'oscurità che ancora inconveva tanto più che la mia gamba sinistra nel sollevarsi la occultava ogni volta mi sembrava tuttavia che i suoi occhi indagatori si volgessero nella notte verso questo punto di rottura felice e doloroso insieme del mio corpo esausto al solito si masturbava su quel sellino con una violenza che aumentava la sua intensità la sua forse nata lussuria non aveva certo al pari di me esaurito il furore della sua condizione radicale di fronte alla nudità sentivo che i suoi rauchi lamenti preannunciavano l'orgasmo che l'avrebbe travolta il suo corpo nudo rovinò sul ciglio di un fosso nello stridere e sfregare caratteristico dei ferri trascinati sul selciato rimase inerte quasi senza vita la testa reclinata un sottile rivolo di sangue colava sulle sue tiepide labbra sollevai un braccio che ricascò mi gettai su quel corpo inanimato nell'orrore del momento che mi faceva tremare e contro la mia volontà apparente fui attraversato mio malgrado da uno spasimo di sensualità e di sangue con una smorfia del labbro inferiore che scollandosi dai denti mi lasciò con la bocca mezza aperta come gli idioti ritornando alla vita Simone ebbe un movimento che mi svegliò uscii dal dormireglia in cui mi aveva gettato la mia depressione nel momento in cui avevo creduto di insozzare un cadavere il suo corpo non era assegnato da nessuna ferita da nessuna chimosi superstiti del suo vestiario aveva addosso ancora il recicalze e una calza la presi nelle mie braccia e la portai sulla strada senza tener conto della mia fatica camminai il più svelto possibile la luce del giorno era ormai imminente uno sforzo superiore alle mie forze mi permise di arrivare a stento fino alla villa e di curicare nel suo letto la mia straordinaria amica il sudore mi devastava il viso avevo gli occhi gonfi di sangue le orecchie ronzavano inesorabili al solito battevo i denti ma ero contento di aver salvato con lei che amavo non potevo fare a meno di pensare che presto avremmo rivisto Marcella così sudatissimo e sporco di polvere rappresa mi stesi accanto a Simona e mi lasciai andare senza gemere a lunghi incubi 6. Simona all'incidente di Simona non grave seguì un periodo di calma malata passava le sue giornate al letto quando arrivava sua madre io mi chiudevo nella stanza da bagno mi approfittavo per pisciare e per lavarmi Simona si oppose duramente la prima volta che la madre cercò di entrare non entrare le disse c'è un uomo nudo Simona non aveva citazioni se era necessario la metteva alla porta senza scrupoli mentre io riprendevo il mio posto sulla sedia accanto al letto leggevo giornali qualche volta me la stringevo al petto calda di febbre andavamo a fare pipì insieme nella stanza da bagno la lavavo con cura nel bidet non la toccavo neppure data la sua estrema debolezza ma ecco che prese a farmi gettare uova dentro la tazza del gabinetto dovevano essere sia uova sode che sprofondavano sia uova succhiate dentro più o meno vuote Simona se ne rimaneva seduta a guardare queste uova tra le sue gambe sotto il suo culo quando si era stancata tiravo la catena un altro gioco consisteva nel rompere un uovo sull'orlo del bidet per poi votarlo sotto di lei talvolta pisciava sull'uovo altre volte io mi toglievo le mutande e l'inghiottivo nel fondo del bidet mi promise quando fosse ritornata in buona salute di compiere lo stesso atto davanti a me poi davanti a Marcella la nostra immaginazione galoppava se immaginavamo di adagiare Marcella con le gonne alzate ma senza togliersi nulla di dosso in una masca mezza piena di uova sulle quali pisciava schiacciandole contemporaneamente Simona addirittura ossessivamente sognava che io tenessi Marcella nuda nelle sue braccia col culo in alto le gambe piegate e la testa in basso e la stessa allora vestita di un accappatoio inzuppato d'acqua calda che si incollava al corpo pur lasciandole il seno scoperto sarebbe salita su di una sedia bianca io gli avrei sollecitato i seni prendendo i suoi capezzoli nella canna di una pistola d'ordinanza carica ma che aveva appena sparato questo perché avrebbe aumentato la nostra eccitazione specie se la canna avesse mantenuto l'odore della polvere nel frattempo avrebbe fatto colare dall'alto e scorrere sul lano grigio di Marcella una crema fresca avrebbe anche urinato nel suo accappatoio o se ci fosse aperto sulla schiena o sulla testa di Marcella che avrei potuto ricoprire di piscio anch'io dall'altra parte Marcella mi avrebbe dovuto allora inondare tenendo il mio collo stretto fra le sue cosce se voleva avrebbe potuto far entrare il mio glande pisciante nella bocca dopo questi sogni Simona mi pregava di farla colicare sopra una coperta a fianco della tazza del gabinetto sulla quale sporgeva il viso poggiando le braccia ai bordi per fissare lungamente sulle uova i suoi grandi occhi aperti io mi sistemavo a mia volta accanto a lei e le nostre guance le nostre tempie si toccavano una lunga contemplazione ci placava il rumore dello scarico d'acqua divertiva Simona fuggiva così alle ossessioni che la possedevano intera e ritornava al suo stato solito di umore tranquillo un giorno infine allora in cui il sole delle sei obliquamente illuminava il bagno un uovo mezzo succhiato fu invaso dall'acqua e riempiendosi con un rumore particolare gorgoglio sommesso fece naufragio sotto i nostri occhi Simona interpretò questo fatto a modo suo estremo radicale si irrigidì godendo lungamente bevendo quasi il mio occhio che teneva fra le labbra poi senza lasciar quest'occhio che succhiava con tale ostinazione come se fosse un seno si sedette attirando la mia testa e pisciò sulle uova che galleggiavano con una violenza e una soddisfazione che la costrinsero a urlare ormai era guarita mi manifestò la sua felicità parlandomi a lungo dei suoi problemi intimi stranamente perché di solito non parlava mai né di lei né di me mi confessò sorridendo che un momento prima avrebbe voluto scaricarsi interamente ma si era trattenuta per avere un più lungo godimento la voglia smodata le tendeva in effetti il ventre sentiva il suo culo gonfiarsi come un fiore che stia per sbocciare la mia mano era nella sua tenera fessura mi diceva che era rimasta nello stesso stato che era infinitamente dolce e poi le chiedevo quali analogie scatenava in lei la parola urinare mi rispose bulinare gli occhi con un rasoio qualcosa di rosso il sole e l'uovo un occhio di vitello forse per il colore della testa e d'altra parte il bianco dell'uovo non era il bianco dell'occhio e il rosso la pupilla la forma dell'occhio è se si fa attenzione la stessa dell'uovo mi chiese di rompere quando fossimo usciti un po' di uova in aria lanciate al volo a colpi di revolver se la cosa mi sembrava impossibile Simona discutendone la trasformò in qualcosa di piacevole giocava allegramente con le parole dicendosi a schiacciare un occhio sia a rompere un uovo e al riguardo dandosi ad un ragionare senza sostegno logico aggiunse che l'odore del culo dei peti era per lei l'odore della polvere un getto d'orina era un colpo da fuoco visto come una luce ognuna delle sue natiche era un uovo duro sbucciato ci facevamo portare delle uova morbide calde e senza guscio per il cesso mi prometteva che di lì a poco si sarebbe svuotata su quelle uova il suo culo si trovava ancora nella mia mano nello stato che mi aveva detto e dopo questa promessa un miscuglio di sensazioni implacate cresceva in noi una camera di malati è un posto ideale per ritrovare la lubricità infantile aspettando le uova sode succhiavo il seno di Simona mi contraccambiava accarezzandomi la testa sua madre ci portò le uova non miserai neppure credendo che si trattasse di una domestica continuavo imperterrito quando riconobbi la sua voce non per questo mi mossi non potevo ormai neanche per un istante rinunciare al seno mi tolsi anzi le mutande come chi dovesse improvvisamente soddisfare un bisogno impellente senza ostinazione certo ma con il desiderio che se ne andasse e con la gioia di superare ogni limite di decenza quando lasciò la camera cominciava a far notte accesi la luce del bagno mangiammo un uovo caldo per uno con Simona seduta sul cesso che io accarezzavo per tutto il corpo facendo scivolare le altre uova su di lei e soprattutto nell'incavo delle sue doci rinatiche Simona le guardò per qualche tempo immerse bianche e calde sbucciate e come nude sotto il suo culo finché non le costrinse a far naufragio ad affondare con un rumore di caduta analogo a quello delle uova sode devo precisare a questo punto che niente più accadde fra noi da allora che riguardasse le uova ad eccezione di una volta abbiamo cessato per sempre di parlarne se ci capitava di vederne non potevamo guardarci senza arrossire interrogandoci dubbiosamente con gli occhi la fine del racconto mostrerà che questo interrogarci non doveva restare senza risposta e che la risposta misurò il vuoto aperto in noi dal nostro trastullarci con le uova 7 Marcella evitavamo ogni allusione alle nostre ossessioni la parola uovo fu cancellata dal nostro vocabolario non parlavamo più neppure dell'attrazione che avevamo l'uno per l'altro ancora meno di ciò che Marcella rappresentava ai nostri occhi intanto che durò la malattia di Simona restammo in quella stanza aspettando il momento in cui avremmo potuto ritornare da Marcella con quello stesso sbarrimento che a scuola precedeva la nostra uscita liberatoria dall'aula tuttavia non è che avessimo cessato di immaginare vagamente quel giorno io mi procurai una funicella una corda a nodi ed una sega che segasse le sbarre e che Simona esaminò con attenzione riportai le biciclette le ingrassai con cura e attaccai alla mia un paio di poggiapiedi per poter portare sopra una delle due ragazze nulla era di più facile almeno per un po' di far vivere Marcella nella camera di Simona come avevo fatto io d'altronde sei settimane passarono prima che Simona potesse venire con me fino alla casa di cura partimo di notte io continuavo a non farmi vedere di giorno ed avevamo tutte le ragioni per non attirare l'attenzione avevo fretta di arrivare lì nel luogo privilegiato che la mia immaginazione aveva trasformato in un castello stregato se le parole casa di cura e castello erano ormai legate alla mia memoria al ricordo di quel lenzuolo fantasma in quella dimora piena di silenzio popolata di folle gente lo strano era che mi sembrava di andare a casa mia quando invece in nessun luogo mi ero mai sentito a mio agio questa sensazione mi sorprese quando saltai il muro di cinta e mi trovai di fronte al fabbricato solamente la finestra di Marcella era illuminata grande e aperta attirammo l'attenzione della ragazza lanciando dentro la sua camera alcuni ciottoli ci riconobbe e non disubbidì a quello che le chiedemmo di fare a gesti silenziosamente ne mostrammo subito la corda a nodi per farle capire le nostre intenzioni lanciai la cordicella fissata a un peso di piombo me la ributtò dopo averla passata dietro a una sbarra non ci furono difficoltà la corda fu fissata attaccata ed io mi arrampicai fino alla finestra Marcella indietreggiò istintivamente quando io voglio baciarla si limitò a guardare me con estrema attenzione mentre segavo una sbarra con la lima e chiese dolcemente di vestirci per seguirci era soltanto con l'accappatoio addosso voltandomi le spalle si infilò veloce le sue calze di seta e le appuntò ad una cintura che consisteva in un nastro rosso vivo e che le valorizzava un di dietro di una purezza e di una finezza sorprendenti continuavo a limare coperto di sudore mentre Marcella ricopriva le reni delicate con una camicia che non rovinava la sua linea armoniosa che finiva aggressivamente con il culo messo bene in rilievo da un piede alzato sulla sedia non si mise le mutande ma si infilò una gonna di lana grigia a pieghe ed un pullover a piccoli riquadri neri bianchi e rossi così vestita con le scarpe dai tacchi bassi venne di nuovo a sedersi accanto a me potevo con una mano accarezzarla i suoi bei capelli lisci tanto biondi da sembrare bianchi mi guardava con affetto e sembrava commuoversi della mia felicità senza parole mi sposerai non è vero disse infine qui è terribile tutto si soffre in quel momento non avrai dubitato neppure per un attimo di dedicare il resto dei miei giorni a quell'apparizione irreale non potei fare a meno di baciarla a lungo sulla fronte e sugli occhi ed essendo una sua mano scivolata per caso sulla mia gamba mi guardò con certi occhi enormi e dilatati ma prima di ritirare la mano mi accarezzò con un gesto attraverso la stoffa l'immonda sbarra cedette dopo un lungo sforzo la torsi con tutte le mie forze di quel tanto che permettesse il passaggio Marcella passò senza difficoltà aiutai a scendere sorreggendola con una mano scivolata tra le sue cosce nuda appena a terra si rannicchiò tra le mie braccia baciandomi sulla bocca mentre Simona ai nostri piedi con gli occhi che le brillavano di lacrime stringeva le sue gambe baciando le sue cosce sulle quali dapprima si era accontentata di posare una guancia ma non potendo trattenere un fremito di gioia aprì quel corpo e incollando le sue labbra al sesso di Marcella la baciò con avidità ci rendevamo conto tutti e due che Marcella non capiva niente di quel che le stava succedendo sorrideva immaginando magari la sorpresa del direttore del castello stregato quando l'avesse vista con suo marito aveva una coscienza imperfetta della presenza di Simona che scambiava per un lupo forse per i suoi neri capelli e per il suo mutismo e per aver trovato la testa della mia amica protesa come quella di un cane lungo la sua gamba e di tutto questo ne rideva comunque quando le parlavo del castello stregato non aveva il minimo dubbio che si trattasse della casa dove viveva rinchiusa e se ci pensava un terrore angosciatissimo l'allontanava da me come se qualche fantasma fosse comparso nell'oscurità la guardavo inquieto e poiché i miei lineamenti già da un po' di tempo si erano induriti io stesso la impaurì mi chiese subito di proteggerla quando il cardinale fosse tornato eravamo distesi al chiaro della luna ai margini di un bosco desiderossi di riposarci un po' a metà strada e soprattutto volevamo assaziarci con lo sguardo e con i baci di Marcella chi è il cardinale domandò Simona quello che mi ha messo nell'armadio rispose Marcella perché il cardinale urlai subito mi rispose perché è il curato della ghigliottina mi rammentai la paura che aveva avuto quando avevo riaperto l'armadio ero mezzo travestito con i resti di qualche costume teatrale in testa un berretto frigio addosso uno straccio di rosso violento inoltre ero coperto di sangue per i graffi di una ragazza che avevo posseduto così il cardinale curato della ghigliottina si confondeva nello spavento di Marcella con il boia sporco di sangue con in testa il berretto frigio una strana compresenza di pietà e di orrore per i preti spiegava questa confusione che per me resta legata alla mia durezza innegabile così come all'angoscia che mi ispira continuamente la necessità implacabile dei miei atti ottavo gli occhi aperti della morta lì per lì rimasi sconcertato da questa scoperta Simona ne fu colpita Marcella si era quasi addormentata nelle mie braccia non sapevamo che fare la sua gonna sollevata lasciava intravedere i peli tra i nastri rossi alla fine delle cosce slanciate questa nudità silenziosa inerte ci comunicava una specie di estasi un soffio avrebbe dovuto tramutarci in luce non ci muovemmo più aspirando solamente a che quell'inerzia durasse e che Marcella si addormentasse del tutto un abbagliamento interiore mi spossava non so come veramente sarebbe finita se Simona ad un tratto non si fosse dolcemente agitata aprì le cosce le aprì finché era possibile e mi disse con voce estenuata dal desiderio che non ce la faceva trattenersi di più inondò fremendo i suoi vestiti sentì che contemporaneamente me ne venivo il seme schizzava dalle mutande mi allungai allora sull'erba appoggiai la nuca su una pietra piatta e rimasi disteso ad occhi aperti rivolti alla via lattea strana macchia di sperma astrale e di orina celeste attraverso la volta cranica delle costellazioni ferita aperta in mezzo al cielo apparentemente formata da vapori ammoniacali divenuti brillanti nell'immensità nello spazio vuoto in cui si lacerano come il grido di un gallo nel silenzio un uovo un occhio cavato o il mio cranio abbagliato incollato alla pietra rinviandone all'infinito le immagini simmetriche accorante l'assurdo grido del gallo coincideva con la mia vita o quella che io ero il cardinale a causa della ferita del color rosso delle grida discordanti che avevo provocato nell'armadio e anche perché si sgozzano i galli ad altri l'universo sembra onesto sembra onesto alle persone oneste perché hanno gli occhi castrati è per questo che temono l'oscenità non provano alcuna angoscia se sentono il canto del gallo o se si accorgono del cielo stellato generalmente godono i piaceri della carne a condizione che siano scipiti ma già da allora non c'erano più dubbi non amavo quelli che eufemisticamente si chiamano piaceri della carne forse proprio perché sono senza sapore amavo ciò che si giudica come osceno non ero per niente soddisfatto al contrario del pervertimento semplice perché esso insozza soltanto se stesso e in ogni caso lascia intatta un'essenza elevata e perfettamente pura la dissolutezza che io conosco non soltanto deve insozzare il mio corpo e i miei pensieri ma tutto ciò che immagino davanti ad essa e soprattutto l'universo stellato io associo la luna al sangue delle madri ai maestri dall'odore sconvolgente ho amato Marcella senza piangerla ormai se è morta è per mia colpa che è morta se ho rimorso per questa morte se mi capita di richiudermi per qualche ora in una cantina a pensare di Marcella non per questo non ritornerei ad immergerla nella tazza del gabinetto tenendole per la testa ma ormai è morta è morta e io vivo legato agli avvenimenti che mi riconducono a lei nei momenti in cui meno me l'aspetto senza ciò mi è impossibile scorgere qualche rapporto tra la morta e me così la gran parte delle mie giornate a viverla è un inevitabile fastidio mi limiterò qui a raccontare come Marcella si impiccò riconoscendo l'armadio normanno cominciò a battere i denti capì allora guardandomi che io ero il cardinale e poiché urlava non c'era altro da fare perché smettesse di lasciarla sola ma quando rientrammo nella camera si era impiccata all'interno dell'armadio tagliai la funa era proprio morta la sistemammo sul tappeto Simona si accorse della mia eccitazione subitanea ci stendemmo sul tappeto e la presi a fianco del cadavere era ancora vergine fu un grande dolore per tutti e due ma eravamo ugualmente felici di avere quel male quando si rialzò e guardò il cadavere Marcella non ci apparteneva più estranea nella sua morte alla vita mi accorsi che anche Simona lo era per me non amavo più né Simona né Marcella e mi avessero detto che anch'io ero morto appena morto non mi sarei molto meravigliato ero indifferente a quegli avvenimenti guardavo Simona e ciò che mi piacque lo ricordo precisamente fu che cominciò a comportarsi terribilmente quel cadavere li irritava non poteva sopportare che quell'essere della sua stessa forma non la sentisse più soprattutto gli infastidivano gli occhi aperti allora pisciò su quel viso ormai inerte e finse di essere sorpresa da quegli occhi che volevano chiudersi eravamo calmi tutte e tre che cosa c'era di più desolante ogni rappresentazione del fastidio si collega per me a quel momento e al comico ostacolo che è la morte ciò non mi impedisce di pensarci senza una smania di rivolta e persino con un sentimento di complicità in fondo l'assenza di esaltazione rende le cose assurde Marcella morta era meno lontana da me che da viva nella misura in cui come credo l'assurdo ha tutti i diritti il fatto che Simona abbia pisciato su di lei per noia o per irritazione dimostra a quale punto fossimo nella considerazione della morte Simona era furiosa angosciata ma per nulla portata al rispetto Marcella ci apparteneva a tal punto nel nostro isolamento che non avevamo visto in lei una morte come le altre Marcella non era affatto riducibile alla misura delle altre gli impulsi contrari che disponevano di noi in quel giorno si neutralizzavano lasciandoci ciechi essi ci situavano ben lontani in un mondo in cui i gesti sono senza efficacia come delle voci in uno spazio che non è sonoro 9 animali osceni per evitare il fastidio di un'inchiesta decidemmo di fuggire in Spagna Simona contava sull'aiuto di un inglese ricchissimo che le aveva proposto di portarla con sé mantenendola lasciamo la villa nella notte non fu difficile rubare una barca e sbarcare in un punto deserto della costa spagnola Simona mi lasciò in un bosco per andare a San Sebastiano all'avvicinarsi della notte ritornò al volante di una splendida automobile mi riferì che Sir Edmund l'avremmo ritrovato a Madrid e che per tutto quel giorno le aveva sottoposto le domande più minuziose sulla morte di Marcella obbligandola persino a fare disegni e schizzi mandò perfino un domestico a comprare un manichino con la parrucca bionda Simona dovette pisciare su un manichino steso a terra con gli occhi aperti appunto come era morta Marcella nella stessa posizione Sir Edmund non aveva toccato la ragazza Simona dopo il suicidio di Marcella cambiò profondamente aveva lo sguardo come fisso nel vuoto quasi vivesse in un altro mondo tutto l'annoiava restava legata a questa vita solo per qualche raro orgasmo ma molto più violento di prima esasperato diverso non meno di quanto è diverso dal nostro il riso dei selvaggi Simona ormai apriva i suoi occhi stanchi soprattutto su qualche scena o scena nella sua tristezza un giorno Sir Edmund fece gettare rinchiudere in un porcile stretto e senza finestre una piccola deliziosa e facile ragazza di Madrid che si rotolò in calzamaglia nell'etame abbondante sotto il ventre delle troie Simona si fece possedere a lungo da me nello sterco davanti alla porta mentre Sir Edmund mentre Sir Edmund si masturbava improvvisamente mi sfuggì rantolando si afferrò il culo con le due mani battendo contro il pavimento la testa rovesciata con violenza resta così tesa per qualche secondo senza respirare le mani con tutte le sue forze aprivano il suo culo con le unghie si diraneò con un colpo procurandosi delle ferite nell'andare a sbattere con un certo fracasso contro i ferri della porta Edmund si fece mordere a sangue il suo polso mentre lo spasimo la scuoteva a lungo il viso tutto insaccherato di saliva e di sangue mischiati dopo questi eccessi veniva sempre a mettersi nelle mie braccia con il suo culo nelle mie grandi mani restava immobile cupa senza dire una parola come una bambina tuttavia Simona continuava a preferire le corride a questi intermeziosceni che Sir Edmund si ingegnava di procurarci preferiva tre momenti della corrida il primo quando la bestia rompe nell'arena come un grosso topo il secondo quando le sue corna si affondano fino al cranio nel fianco di una giumenta il terzo quando la povera giumenta galoppa di traverso nell'arena perdendo tra le gambe un mucchio di interiore dai colori ignobilmente osceni bianco rosa e grigio perla quando la vescica squarciandosi perdeva di colpo sulla sabbia una pozza durina di cavalla le sue narici fremevano dall'inizio alla fine della corrida accuvacciata quasi nella sua angoscia che non la lasciava mai con il terrore indizio in fondo di un insormontabile desiderio di vedere uno di quei feroci colpi di corna che il toro incessantemente dà infuriato contro il vuoto delle stoffe colorate andare a defetto e lanciare in aria il torero bisogna dire d'altronde che se senza lunghe pause e senza fine la terribile bestia passa e ripassa attraverso la cappa a un dito dalla linea del corpo del torero si prova la sensazione di proiezione totale e ripetuta tipica del gioco erotico avvicinarsi della morte è vissuto con un'intensità molto simile questa serie di passaggi felici sono rari e scatenano nella folla un vero delirio le donne in quei momenti patetici godono tanto tendono ai muscoli delle gambe e del basso ventre riguardo alle corride sar edmond raccontò una volta a simona che ancora allora era abitudine degli spagnoli virili magari anche torelli dilettanti di chiedere al portiere dell'arena i testicoli arrostiti del primo toro se li facevano portare al loro posto naturalmente in prima fila e li mangiavano mentre guardavano morire il secondo simona ascoltò attentamente questo racconto e poiché la domenica seguente dovevamo andare alla prima grande corrida della stagione chiese a Sar Edmond i testicoli del primo toro che fosse stato matato ma c'era una differenza li voleva crudi ma disse Sar Edmond che ci volete fare con i testicoli crudi li voglio davanti a me in un piatto rispose lei 10 l'occhio di granero il 7 maggio 1922 la rosa la landa e granero dovevano toreare nelle arene di Madrid poiché Belmonte si trovava in Messico erano presenti gli altri due grandi matador spagnoli la landa e granero generalmente granero era considerato il migliore a 20 anni bello grande di una disinvoltura adolescente era già popolare a Simona piaceva molto e quando Sar Edmond le annunciò che il formidabile ucciso redditori avrebbe cenato con noi la sera della corrida trovò una grande contentezza granero era diverso dagli altri matador non aveva certo l'aria di un macellaio ma di un principe grazioso di presenza maschile e dolcissima slanciato il costume di matador metteva in risalto la sua magrezza filiforme ed elastica ogni volta che il toro balzava a fianco del corpo modellava il suo culo senza difetti la stoffa di un rosso vivo la spada scintillante al sole di fronte al toro morente nel suo pelame fumante bagnato di sudore e di sangue contemplavamo la metamorfosi e scoprivamo l'aspetto affascinante del gioco tutto accadeva sotto il cielo torrido di spagna per nulla colorato e tagliente come si potrebbe immaginare ma solare calmo di una luminosità scintillante molle e torbida irreale talvolta tanto la violenza della luce l'intensità del calore evocavano la libertà dei sensi la molle umidità della carne da allora collego questa irrealità umida del fulgore solare alla corrida di quel 7 maggio gli oggetti che conservai con cura sono un ventaglio giallo e blu e l'opuscolo popolare dedicato alla morte di granero nel corso di un imbarco la valigia che conteneva questi cimeli cadde in mare ma un arabo la ripescò con l'aiuto di una pertica e dunque sono ancora in mio possesso benché in uno stato miserando ma purché sporchi e gonfi d'umidità mi ricollegano al suolo al luogo alla data a tutto ciò che in me è solo una visione apocalittica e deliquescente il primo toro quello di cui simona aspettava i testicoli era un mostro nero il cui rompere fu così impetuoso che malgrado le urle e gli sforzi per spaventarlo sventrò tre cavalli prima che si riuscisse a far iniziare la corrida riuscì a sollevare cavallo e cavaliere come per offrirgli al sole facendoli ricadere pesantemente dietro le sue corna al momento giusto si fece avanti il granero irratendo il toro nella sua cappa egli si fece gioco del suo furore in un delirio di ovazioni il giovane torero fece girare il mostro nella sua cappa ogni volta la bestia si argeva verso di lui in una specie di carica ma quello evitava di poco l'orrendo scontro finché la morte del mostro solare fu consumata senza imprevisti l'ovazione interminabile cominciò allorché la bestia cadde in ginocchio con un'incertezza vergognosa di sé e poi si lasciò cadere con le zampe all'aria espirò Simona in piedi tra me e Sir Edmond in un'esaltazione che eguagliava la mia rifiutò di sedersi dopo l'ovazione senza dirmi parola mi prese per mano e mi condusse in un cortile esterno all'arena dove regnava l'odore dell'orina afferrai Simona per il culo mentre mi tirava fuori furiosamente il sesso entrammo dentro una latrina maleodorante dove i moscerini riempivano schifosamente gli scarsi raggi di sole che penetravano lì dentro affondai nella sua carne bavosa e rossa la mia mazza durissima che penetrò quella caverna d'amore mentre io le stuzzicavo rabbioso lano le nostre bocche dilaneandosi si incollarono in un bacio senza fine l'orgasmo del toro non è più forte di quello che devastandoci le reni si trafisse senza che il mio membro uscisse dal suo sesso e cosparsi del mio seme abbondante i battiti del cuore nei nostri petti che avremmo voluto nudi per farli toccare sulla pelle non si calmavano simona col culo ancora desideroso di profanazione e io con il sesso in un'eterna erezione ritornammo ai nostri posti ma nel posto dove la mia amica doveva sedersi trovammo in un piatto i due testicoli nudi quelle ghiandole della grandezza e forma di un uovo erano di un bianco perlaceo mezzo rosato per il sangue analogo a quello del globo oculare sono i coglioni crudi disse Sredmon a Simona con un leggero accento inglese Simona si era inginocchiata davanti al piatto che le dava un imbarazzo senza precedenti sapendo ciò che voleva e non sapendo come risolversi per ottenerlo divenne esasperata presi il piatto volendo farlo assedere subito lo riprese dalle mie mani e lo rimise sulla pietra Sredmon ed io temevamo di attirare l'attenzione la corrida languiva chinandomi all'orecchio di Simona le domandai cosa volesse idiota rispose non hai capito che voglio sedermi nuda sul piatto è impossibile dissi siediti tolsi il piatto e la costrinse a sedersi la fissavo volevo che capisse che avevo capito pensavo al piatto con il latte da quel momento non riuscimmo più a controllarci a star fermi seduti questo disagio divenne così irresistibile che lo contagiammo al pacifico Sredmon lo spettacolo era scadente i matadores inquieti fronteggiavano avversari snervati dalla stanchezza per volontà di Simona avevamo preso i posti esposti ai raggi del sole così eravamo avvolti in un vapore umido di luce e di calore che pur tuttavia seccava le nostre labbra non era possibile che Simona potesse togliersi i vestiti e posare il suo culo sopra i testicoli aveva conservato il piatto nelle sue mani volevo possederla ancora prima che tornasse granero ma rifiutò pur di assistere allo sventramento dei cavalli a cui seguiva come diceva la perdita e il frastuono cioè la caduta delle budella che la eccitavano fino al parossismo non c'era ancora a quel tempo la corazza protettiva che protegge il ventre dei cavalli i raggi del sole alla lunga si assorbivano in una realtà conforme alla nostra irrequietezza al nostro impotente desiderio di esplodere di essere nudi con il viso contratto sotto l'effetto del sole della sete dell'esasperazione dei sensi condividevamo quella deliquescenza malinconica in cui gli elementi non si accordano più la situazione non cambiò al ritorno di Granero finché il toro era sospettoso il gioco avrebbe continuato a languire quello che seguì seguì senza transizione quasi apparentemente senza legame non che le cose non fossero legate ma io nella mia presenza lì ero come assente vidi Simona con mio terrore mordere uno dei globi Granero avanzare e presentare al toro il trappo rosso poi Simona rossa in volto quasi paonazza avere un momento di oscena oscenità e introdurre l'altro testicolo nel suo sesso aperto e denudato Granero abbattuto accovacciato sulla balaustra e su quella balaustra le corna impazzite vibrarono tra colpi una delle cornate trafisse l'occhio destro e la testa l'urlo atterrito della folla concise con l'orgasmo di Simona alzatasi dal sedile vacillò e cadde il sole la possedeva intera accecandola mentre il sangue le colava dal naso qualcuno accorse si impadronì di Granero la folla nell'arena era tutta in piedi l'occhio destro del cadavere ancora pendeva undici sotto il sole di Siviglia due globi della stessa grandezza e consistenza si erano animati di movimenti contrari e simultanei un testicolo bianco di toro era penetrato nella carne rosa e nera di Simona un occhio era uscito dalla testa del giovane torero questa coincidenza legata oltre alla morte ad una specie di riquefazione urinaria del cielo mi rese Marcella per un momento mi sembrò in quell'incomprensibile impalpabile istante di toccarla fumo presi dalla solita noia Simona peggiorava sempre più nel suo umore rifiutò di restare un giorno di più a Madrid voleva precipitarsi a Siviglia che aveva la fama di essere una città di vizio e di desiderio se Redmond volle soddisfare i capricci della sua angelica amica nel sud trovammo una luce un calore ancora più deliquescente che a Madrid un eccesso di fiori nelle vie finiva di snervare i sensi Simona andava in giro nuda sotto una veste leggera bianca che lasciava vedere attraverso la seta i fianchi ed anche in certe posizioni il suo sesso per questa città ella era una bruciante delizia una primizia per le strade vidi spesso alcuni ragazzi eccitarsi violentemente nei loro sessi freschi al passaggio di Simona no non smettevamo mai di stremarci nel fare all'amore evitavamo l'orgasmo e visitavamo la città lasciavamo un posto propizio in cerca di un altro una sala di museo il viale di un parco l'ombra di una chiesa o una stradina deserta la sera aprivo il corpo della mia amica le ficcavo tutto il pene dentro poi lo sradicavo svelto dal suo rifugio e riprendevamo a girare a caso se Redmond ci pedinava da lontano e se ci sorprendeva arrossiva senza avvicinarsi se si masturbava lo faceva discretamente a distanza è interessante ci dice un giorno indicandoci una chiesa questa è la chiesa di Don Giovanni davvero? domandò Simona vuole entrare sola nella chiesa? propose Sir Edmond che idea assurda o no che fosse l'idea Simona entrò mentre noi ce ne restavamo accanto alla porta quando ritornò restammo molto stupiti per il ridere la voce le si strozzava in gola forse perché il riso contagia forse per il troppo sole preso incominciai a ridere a mia volta seguito da Sir Edmond bloody girl ridò l'inglese vuole spiegarci? dipende dal fatto che ci troviamo sulla tomba di Don Giovanni se ridiamo? e ridendo fino a sganasciarsi mostrò ai nostri piedi una grande lastra di rame essa ricopriva la tomba del fondatore della chiesa che si dice fosse stato Don Giovanni pentitosi in tempo costui volle che lo sotterrassero sotto il portone d'ingresso per essere calpestato dagli esseri più umili le nostre risate ricominciarono raddoppiate Simona per il ridere si pisciò lungo le gambe un rivolo d'orina colò sulla lapide l'incidente ebbe un altro effetto inzuppata la stoffa del vestito risultava trasparente il sesso nero era visibile Simona alla fine si calmò rientro ad asciugarmi disse ci trovammo in un interno dove non vedemmo nulla che giustificasse il riso di Simona abbastanza fresco riceveva la luce che filtrava attraverso i tentaggi di cretano rosso alle finestre la volta la volta era tutta lavorata i muri bianchi erano ornati da statue e quadri un altare e un tabernacolo dorato riempivano il muro di fondo fino ai pilastri della volta quell'arredo di sortilegio e di incanto come carico di tutti i tesori dell'India la forza di ornamenti di volute e di intrecci evocava con le sue ombre e lo splendore dei suoi ori i segreti profumati di un corpo umano a sinistra e a destra della porta due celebri quadri di Valdez Leal rappresentavano cadaveri in via di decomposizione nell'orbita oculare di un vescovo entrava un grosso topo insieme di una sensualità sontuosa i giochi d'ombra e la luce rossa delle tende la frescura e l'odore degli oleandri e contemporaneamente l'impudicizia di Simona mi spingevano a lasciarmi trascinare vidi due piedi che calzavano scarpette di seta di una penitente che uscivano da un confessionale voglio vederli passare disse Simona si sedette davanti a me vicino al confessionale volevo metterle il mio sesso in mano ma lei rifiutò minacciando di masturbarmi fino allo schizzo tiepido del seme dovetti sedermi vedevo il suo soffice spacco sotto la seta bagnata adesso vedrai mi disse dopo una lunga attesa una donna molto graziosa lasciò il confessionale ancora con le mani giunte i lineamenti pallidi estasiati con la testa alta gli occhi biondi attraverso la sala passo lento come uno spettro d'opera strinsi i denti per non ridere in quel momento la porta del confessionale si aprì ne uscì un prete biondo ancora giovane e bellissimo dalle magre guance con gli occhi incavati di un santo restava con le mani giunte sulla soglia del confessionale con lo sguardo fisso su un punto del soffitto come se una visione celeste dovesse strapparlo alla terra sarebbe senz'altro scomparso a sua volta se simona con mia sorpresa non lo avesse fermato salutandolo chiese di confessarsi come privo di ogni emozione esterna il visionario in preda di qualche sua interiore estasi indicò il posto per la penitente un inginocchiatoio sotto una tenda poi rientrando silenzioso nel confessionale vi si chiuse dentro 12 la confessione di simona e il rito di sir edmund ero assai stupefatto per l'azione di simona che sotto la tendina già si inginocchiava mentre mi sbigliava chissà che io attendevo con impazienza gli effetti di questa diavoleria quel sordido prete mi immaginavo sarebbe schizzato fuori dalla sua scatola precipitandosi contro l'empia ma non accadde niente di simile simona parlava senza sosta a bassa voce attraverso la piccola finestrella traforata scambiai con Sir Edmund gli sguardi più interrogativi allorché le cose si chiarirono come era prevedibile simona poco a poco si toccava le cosce allargava le gambe si agitava tenendo un solo ginocchio sull'ingino chiatoio si tolse tutto quello che aveva addosso continuando le sue confessioni mi sembrò che si masturbasse mi avvicinai in punta di piedi sì simona si masturbava incollata all'apertura della finestrella del confessionale di fronte al prete il suo corpo doveva essere teso fino allo spasimo le sue cosce aperte le dita che frugavano senza tregua tra i peli potevo toccarla misi la mia mano nelle sue natiche raggiunsi velocemente il buco in quel momento sentii chiaramente che diceva padre non ho ancora detto la cosa che più mi rende colpevole seguì un silenzio a meno che non sia una grave colpa che mentre io vi parlo mi masturbi continuò alcuni secondi questa volta di sussurri infine quasi a voce alta se non ci credi te lo posso far vedere simona si alzò si aprì davanti alle tendine mezza aperte masturbandosi venendosene quasi con mano rapida e sicura e allora prete ridò simona tempestando il confessionale di pugni che stai facendo in questa baracca ti masturbi anche tu ma il confessionale restava chiuso allora apro dentro il visionario seduto la testa china si asciugava la fronte stillante di sudore la ragazza perquisì la tonaca il prete non fiatò sollevò l'immonda palandrana nera e scoprì un lungo pene rosato e indurito il prete non fece che gettare indietro la testa con una smorfia d'orrore e un soffio come di rassegnazione a mezza bocca ma lasciò fare a simona che prese quell'arnese bestiale nella sua bocca saredmo e io eravamo rimasti immobili stupefatti l'ammirazione minchio dava al mio posto non sapevo che fare quando l'inglese si avvicinò scostò con delicatezza simona poi prendendola per un polso strappò quella larva umana dal suo buco stendendola sul pavimento ai nostri piedi l'ignobile individuo giaceva come morto e la sua bocca perdeva la sua bava lo portammo tranne simona a spalla in carestia senza mutande con il membro che smosciato gli pendeva il viso livido non offriva resistenza anzi respirava fatica lo sistemammo su di una poltrona dalla forma architetturale signores diceva il miserabile voi credete che io sia un ipocrita no disse a saredmon con un tono categorico simona allora gli chiese come ti chiami don amminado rispose quella carogna sacerdotale fu schiaffeggiata violentemente da simona vacillò e potemmo svestirlo sui vestiti in terra simona covacciata pisciò come una cagna poi masturbò il prete e lo succhiò mentre io entravo in lei nel suo di dietro senza resistenza saredmon contemplava la scena con un viso caratteristico da hard labor ispezionò la sala dove ci eravamo rifugiati vide un chiodo con una piccola chiave cos'è questa chiave domandò a don amminado dalla disperazione che contrasse il viso del prete capì che si trattava della chiave del tabernacolo qualche attimo dopo l'inglese ritornò portando un ciborio d'oro decorato da ancioletti nudi come amorini don amminado guardava fissamente quel recipiente di dio posato in terra in suo bel volto testimoniava la sua sofferenza piacevole quando simona prese a mozzicargli il sesso l'inglese aveva barricato la porta e frugando negli armadi vi aveva trovato un calice ci pregò per un istante di lasciare il miserabile guardate queste ostie nel loro ciborio e questo calice dove si mette il vino sa di sperma disse lei annusando i pani azimi giusto continuò l'inglese queste ostie che vedi sono sperma del cristo in forma di piccoli dolci e per quanto riguarda il vino gli ecclesiastici dicono che è il sangue ma ci ingannano se fosse davvero il sangue verrebbero del vino rosso ma bevono il bianco ben sapendo che è l'orina quella dimostrazione era convincente simona si armò del calice e io mi impadronì del ciborio donaminado nella sua poltrona era scosso da un leggero tremito simona gli assestò prima un gran colpo sul cranio con il piede del calice simona gli assestò prima un gran colpo sul cranio con il piede del calice allora il prete ferito perse completamente ogni controllo mentre simona si accaniva a succhiarlo con raffinatezza mentre rantolava ignobilmente lo portò al colmo del furore dei sensi poi non è finita fece bisogna pisciare lo schiaffeggiò nuovamente si spogliò davanti a lui mentre io la masturbavo di nuovo lo sguardo dell'inglese era come impietrito fisso negli occhi del giovane talmente abrutito che tutto si svolse senza difficoltà donaminado riempì rumorosamente di orina il calice tenuto da simona sotto il suo pene rigido adesso bevi disse incrinarsi contro un muro quattro braccia lo presero e a gambe aperte estremato grugnando come un maiale in amore sputò il suo seme sulla coppa che simona masturbandolo teneva sotto di lui tredici le zampe di mosca lasciamo cadere la carogna si abbatté sul marmo con un tonfo eravamo animati da una determinazione evidente unita all'esaltazione il prete già seva rilassato come morto col viso in terra vergognoso di sé e delle sue prodezze insospettate aveva i testicoli vuoti e il crimine commesso lo sfigurava lo sentimmo gemere miserabili sacrileghi e altri lamenti più o meno confusi Sir Edmund lo scostò col piede il mostro ebbe un sussulto gridò la sua rabbia contro di noi scoppiamo a ridere tutti e tre alzati ordinò Sir Edmund e chiavati la girl miserabili minacciò con voce strozzata il prete la giustizia spagnola la galera la garrota dimentica che è il suo seme quello che è stato così in vano sparso osservò ironico Sir Edmund una smorfia un fremito da bestia ferita rispose poi la garrota anche per me ma per voi prima imbecille soghignò l'inghese prima non crederai di arrivarci l'imbecille guardò Sir Edmund il suo fisio testimoniava una precoce demenza una strana gioia gli aprì la bocca giunse le mani alzò al cielo uno sguardo estasiato mormorò allora con voce debole moribonda e martirio il miserabile era stato illuminato da una speranza di salvezza i suoi occhi sembrarono brillare voglio prima spiegarti una cosa disse Sir Edmund tu sai che gli impiccati o gli strangolati si irrigidiscono a tal punto al momento dello strangolamento che eiaculano tu sarai dunque martirizzato ma mentre spargli il tuo ultimo seme la morte ti rapirà il prete spaventato si rialzò ma l'inglese torcendogli un braccio lo gettò per terra Sir Edmund gli legò le braccia dietro la schiena io gli misi un bavaglio e gli legai le gambe con la mia cintura stesosi a terra l'inglese gli fermò le braccia nella morsa delle sue mani immobilizzò le gambe cingendole con le sue incinocchiato io mantenevo la testa fra le cosce l'inglese disse a Simona adesso monta a cavallo su questo topo da chiesa Simona si tolse la veste si sedette sul ventre del martire con il culo incollato al suo glande intorpitito e moscio l'inglese continuò parlando da sotto il corpo della vittima adesso stringi la gola appena un po' sotto il pomo d'adamo una forte e graduale pressione Simona incominciò a stringere un tremito contrasse tutto quel corpo immobilizzato e il sesso si sollevò lo presi in mano e lo introdussi nella carne di Simona che continuava a stringere la gola violentemente la ragazza faceva andare avanti e indietro la sua caverna d'amore sul sesso irrigidito del prete contraeva sempre più i suoi muscoli finché Simona non strinse così risolutamente rabbiosamente e sentì il seme caldo inondare il suo culo allora lasciò la presa omicida stanca ma felice della sua operazione ceseva su quel pavimento con la pancia all'aria e la coscia irrigata dallo sperma del morto mi stesi al suo fianco per venirmene a mia volta dentro di lei ma ero come paralizzato un eccesso d'amore e la morte del miserabile mi avevano prostrato non sono mai stato così contento mi limitai a baciarle la bocca la ragazza ebbe voglia di vedere la sua impresa e mi scostò per alzarsi risali con il culo nudo sul nudo cadavere esaminò quel viso gli asciugò il sudore sulla fronte una mosca ronzando in un raggio di sole tornava continuamente a posarsi sul morto Simona la scacciava ma all'improvviso cacciò un grido leggero posatasi sull'occhio del morto la mosca si spostava lentamente sul globo vitreo prendendosi la testa tra le mani Simona cominciò a scuoterla fremendo sprofondò lentamente nei suoi tormentosi pensieri per quanto possa sembrare bizzarro noi non ci preoccupavamo affatto di come tutta la faccenda potesse andare a finire se qualche importuno fosse intervenuto non l'avremmo certo lasciato indignarsi a lungo non importa Simona uscendo dal suo stato di ebetudine si rialzò raggiunse Saredmon che si era addossato al muro sentivamo volare qualche mosca Saredmon disse la ragazza posandogli il viso sulla spalla farà ciò che desidero lo farò probabilmente le rispose l'inglese allora Simona mi fece mettere accanto al morto e ginocchiando si scostò le palpebre aprendo completamente l'occhio in cui si era posata la mosca vedi l'occhio e allora è un uovo disse con semplicità insistei turbato dove vuoi parare voglio divertirmici ma ancora alzandosi era tutta congestionata ma sempre minacciosamente nuda senta con attenzione Saredmon disse è necessario che mi dia l'occhio subito lo cavi fuori il volto di Saredmon non testimoniò alcuna particolare emozione anzi prese dal suo portafoglio un paio di forbicine si inginocchiò e incise la carne fino ad affondare le dita nell'orbita e tirare fuori l'occhio agliando i nervi infine mise il piccolo globo bianco nella mano della mia amica Simona guardò quella stravaganza visibilmente impacciata ma subito si riprese accarezzandosi le gambe vi fece scivolare l'occhio la carezza dell'occhio sulla pelle è di una dolcezza eccessiva un lacerante brivido di piacere Simona intanto si divertiva faceva scivolare l'occhio nella fessura delle natiche si distese sollevando le gambe e il culo tentò di immobilizzare il globo stringendo le natiche ma quello schizzò via come un nocciolo dalle dita e cadde sul ventre morto l'inglese mi aveva spogliato mi gettai sulla ragazza e le sue grandi labbra inghiottirono il mio sesso la sbattevo mentre l'inglese faceva rotolare l'occhio tra i nostri corpi mettemelo al culo gridò Simona Saredmo mise il globo nell'ano e spinse alla fine Simona mi lasciò prese l'occhio dalle mani di Saredmo e l'introdusse nella sua carne in quell'attimo mi attirò a sé mi mozzicò dentro la bocca con tanto ardore che l'orgasmo mi vinse sputai tutto il seme nella sua fessura alzandomi aperci le cosce di Simona che giaceva stesa su un fianco finalmente vidi ciò che immagino attendevo da sempre come una ghigliottina attende la testa da mozzare i miei occhi mi sembrava erano divenuti erettili a forza di orrore se nella vulva vellutata di Simona vidi l'occhio blupallido di Marcella che mi guardava piangendo lacrime d'orina scelate e di seme nella peluria soffice davano a quella visione un carattere di dolorosa tristezza tenevo divaricate le cosce di Simona finché l'orina bollente scorse sull'occhio e sulla coscia più bassa Sredmund e Dio cammuffati con certe barbe nere e finte e Simona con in testa un ridicolo cappello di seta nera a fiori gialli lasciamo Siviglia in una vettura presa a nolo cambiavamo i nostri travestimenti all'ingresso di ogni nuova città attraversammo Ronda vestiti da curati spagnoli con in testa i cappelli di feltro nero drappeggiati dai nostri mantelli neri e fumando virilmente grossi sigari Simona era in costume da seminarista più angelica che mai sparimmo infine per sempre dall'Andalusia paese giallo di terra e di cielo infinito vaso da notte inondato di luce dove ogni giorno sempre nuovo nel mio travestimento violentavo una diversa Simona soprattutto verso mezzogiorno sotto il sole sul caldo suolo assolato e conse Redmond a guardarci con i suoi occhi arrossati il quarto giorno l'inglese comprò uno yacht a Gibilterra a Gibilterra Grazie a tutti.